Atteso da quasi 40 anni il completamento della Fondo Valle Sangro nel tratto che va dalla stazione di Gamberale a quella di Civita Luparella e un appalto da 190 milioni di euro partito nella scorsa legislatura regionale finanziato attraverso il Masterplan e il decreto Sblocca Italia. I lavori riguardano 5,3 chilometri di cui due e mezzo in galleria e uno e due su cinque viadotti con completamento fissato alla data del 2022. Servirà a collegare l'Adriatico al Tirreno attraverso l'Abruzzo e il Molise così come richiesto da grandi aziende della Val di Sangro come la Sevel che con Marchionne qualche anno fa pose questa condizione per restare a produrre il Ducato in Abruzzo. Ieri il presidente della regione Abruzzo Marsilio ha incontrato nell'area del cantiere allestito nell'ex stazione di Gamberale i vertici dell'ANAS, i rappresentanti delle ditte aggiudicatari e dei lavori e i sindaci dei comuni interessati. Nel corso dell'incontro sono state esaminate alcune priorità rispetto all'avanzamento del cantiere che saranno immediatamente sottoposte agli uffici regionali. La realizzazione dell'opera ha subito un leggero rallentamento a causa del mantempo dei mesi scorsi. La regione Abruzzo ha messo a disposizione alcune aree per lo stoccaggio del materiale e dei mezzi dell'impresa, terreni di proprietà della società dei trasporti TUA. La sfida delle infrastrutture la considero la principale che deve affrontare l'Abruzzo perché siamo rimasti per decenni troppo fermi e questo ha portato a uno svantaggio competitivo per le imprese che sono localizzate sul territorio. È chiaro che la strada, la Fondovalle Sangro fa parte di questo quadro, ma insieme a questo quadro noi dobbiamo parlare anche di ferrovia, di porti che devono servire a potenziare le capacità commerciali del nostro territorio, a mettere in condizione le imprese, grandi o piccole che siano, che hanno investito qui o che vogliono investire, di potersi insediare, di poter continuare a lavorare con prezzi competitivi rispetto alla loro concorrenza. È un'opera strategica, è inutile ribadirlo perché collega due versanti, il versante del Tirreno con il versante dell'Adriatico. È importante per una logistica integrata, soprattutto anche per la Val di Sangro perché non ci dimentichiamo che la provincia di Chiedi è la locomotiva economica di questa regione, produce quasi il 40% del PIL regionale. Per questo motivo questa infrastruttura collega questi due versanti, questi due litorali in tempi ragionevoli, soprattutto per le imprese, per le attività produttive che magari attraverso quest'opera possono tornare a ridare un rilancio economico a questo territorio, alla regione Abruzzo. Un'opera, il completamento della Fondovalle Sangro, che viene rivendicata con orgoglio dal consigliere regionale capogruppo del PD Silvio Paolucci, che ha voluto sottolineare con una nota i 1.500 giorni di lavoro che sono stati necessari per dare il via ai cantieri. Siamo soddisfatti che il presidente Marsilio faccia visita al cantiere più grande d'Abruzzo, al netto di quelli del cratere sismico, nel quale operai specializzati sono all'opera per la realizzazione del tratto conclusivo della Fondovalle Sangro, ha commentato Paolucci, rimarcando come la giunta ad Alfonso abbia lasciato una montagna di finanziamenti per il potenziamento ferroviario e portuale abruzzese e per ulteriori infrastrutture che saranno presto cantierizzate.